Cosa ci faccio in cima a una montagna in mezzo alla nebbia con una bici elettrica autocostruita? Vi devo delle spiegazioni ma andiamo con ordine Ci siamo, speciale 50.000 iscritti, ne ho combinate di belle Non è ancora sorto il sole e inizia da qua la mia avventura Accendiamo, accendiamo Abbiamo fatto esattamente 4 km, scopriamo quanti ne faremo oggi Direi proprio di iniziare su un bel sentiero sterrato per testare il motore, per testare la bici Con questo nuovo assetto, la mia nuova e-bike Siamo pronti? Io direi di sì Ci sarà anche Maurizio che mi guiderà in questa esperienza E in questi posti, sentieri, mulattiere Direi di non perdere altro tempo e di iniziare Come sale, come sale Iniziamo bene Sta arrivando anche la nebbia Ma io per arrivare fino qua ho già fatto una ventina di chilometri circa E ho ancora la batteria al massimo Vabbè dai, come sale bene Ehi la Impennatina anche Prima salita superata senza alcun tipo di problema Ora ci aspetta il secondo pezzo che è davvero tanto tanto più ripido Ma da dove mi è venuta in mente di costruire un e-bike? Semplicemente la mia curiosità Poi Andrea Zigliani mi ha fatto provare la sua super enduro e-bike Da oltre 5-6 mila euro Cercando un po' sul web I prezzi per comprare un e-bike erano quelli E mi sono chiesto Ale, vale davvero la pena spendere 4, 5, 6 mila euro Per iniziare qualcosa di nuovo E magari dopo qualche uscita, qualche mese, qualche prova Non mi sarebbe piaciuto Ho detto Devo fare una cosa E nel mentre Il governo proprio in quel periodo dava 500 euro Per comprare un mezzo per la mobilità ecologica Ho pensato Ho fatto 2 più 2 E proprio la mattina in cui stavano per finire le risorse Sono entrato con lo speed Mi sono giudicato un buono da 500 euro E sorto un problema Il giorno successivo sarebbe stata zona rossa Non avrei potuto più muovermi dalla mia abitazione Quindi ho detto Devo cercare una bici il giorno stesso E dopo parecchie chiamate Infinite ricerche Ora è 7 di sera Chiude tra 20 minuti Entriamo e portiamoci a casa la bici Abbiamo una bici Carichiamola in macchina E si riparte a Milano La mia front mountain bike Molto semplice Ma per me più che sufficiente Veniva all'incirca 1000 euro E me la sono portata a casa Con soli 450 euro Grazie al bonus Non ci preoccupiamo troppo del tempo E continuiamo per la salita più ripida della giornata Giusto? Di qua Sentiero un po' tecnico Per il mio progetto Oltre alla bici Servivo anche un motore In grado di superare un po' di salite Di portarmi in montagna Dato che è la mia grande passione Non volevo solo più andare a piedi Ma anche in mountain bike Dopo svariate svariate ricerche Capendo anche che esistevano Più categorie di motori Più tipologie di motore sul mercato Ho scelto Proprio questo motore Un motore Che si va ad installare Nel movimento centrale Veramente tanto ripido Ma nessun problema E dopo aver capito Anche la batteria Che dovevo installare Una batteria Valida Ho scelto questo compromesso I link li trovate in descrizione Perché Hanno dei nomi un po' assurdi Questi motori Ehm Salita della vita Ciao 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 Presi gli scatoloni Messi in macchina E mi sono affidato Ad Andrea Per il montaggio Trovate un bel video Super dettagliato Su come assemblare Il tutto Sul suo canale Quasi finita E devo dire che sono Parecchio emozionato E super curioso Di vederli in azione Unissimo test Via Ho già messo la turbo Funziona Funziona Dai prova subito in salita Vai su destra 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 Se vuoi dritto Per se no vai su destra Che ti lunga Vai dritto Guarda che dritta Che è qua Ok Spurca come spingere Stai spingendo con le gambe Stai spingendo con le gambe Pochissimo Pochissimo No no Fa tutto il motore Qua ci sarà un 20% Sì anche di più Oh come spingere No così forse un po' troppo Si impenna si impenna Guardiamola Guardalo guardalo Aiuto Spero che venga a recuperarti Primissime impressioni Della bici che abbiamo Assemblato Barra costruito Beh Mi ha stupito Alla grande anche Cioè pensavo Alla fine venisse un po' Una croc Un po' una cosa Rattoppata qua e là Invece a livello estetico Devo dire che non è per niente male Ovviamente c'è da fare Due piccoli ritocchini Come dicevamo prima A livello di cavi Accorciare qualche Qualche cavetto qua e là Però per il resto È uscita Secondo me la gran bella bici Che secondo me Può essere paragonata Al pari di una entry lever Ad esempio Come quella di Decathlon A livello di utilizzo sportivo Forse Non la sceglierei Perché ovviamente Non è stata pensata Progettata per essere unibike Però per una persona Che vuole divertirsi Vuole pedalare ogni tanto O vuole portare in bici Qualcuno che ne ha mandato In bici O con unibike Secondo me Ho una bici in cantina La trasforma Ho una bici in cantina La trasforma Con pochi euro Tra virgolette Pochi euro Rispetto ovviamente Ad un acquisto di unibike Totalmente nuova Secondo me Non male Non male Da considerare Ha il suo senso Ha il suo senso In un certo contesto Ha assolutamente Il suo senso Gran progetto Grande Grande Ale Ciao Ciao Il mio consiglio Fate aiutare Da un negozio di bici Per smontare il movimento centrale Poi la portate a casa E montate il tutto Semplicissimo Poi se guardate anche il tutorial Top Ci aspetta una bella cima I got the rock star Parking everybody wants Out on the street Forty feet From the bus stop Cause every day And every night I'm slamming up up for me Diet Coke From the start Down on the corner Block I don't even notice All these plastic dishes You know I'm a handle Handle my business I'm a boss 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 Baby I'm a boss 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 Callin' all the shots 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 Baby I'm a boss Boss Direi di concludere qui Questo episodio Sul promontorio Prima di tutto Vi devo ringraziare Ognuno di voi Siamo quota 50.000 iscritti Sono davvero Tantissimi Quota inimmaginabile Per me E grazie a tutti Perché rendete possibile Queste esperienze Queste avventure Tutto quello che Vedete un po' Su questo canale La bici L'e-bike Devo dire Super super approvata Se avete la possibilità Magari una bici In garage Che non utilizzate Con 500 600 euro La trasformate Gli ridate vita E vi divertite Tantissimo Anche in salita Ci si diverte Ma tanto tanto Qualche dato tecnico Motore da 500 watt 80 newton metri 85 E' illegale Ma volendo Si può mettere Il limitatore Sul computer Si può settare Tutto la potenza L'erogazione Qualsiasi cosa Batteria da 625 wattora Vi dico L'autonomia 50 chilometri Percorsi Più di 1200 metri Di dislivello In salita Devo dire Che abbiamo testato Sia la batteria Che il motore Davvero Un'ottima Ottima Sorpresa Grazie ancora Tutti Per questo risultato Tutti assieme Ce l'abbiamo fatta Grazie a Maurizio Per la gita Grazie ad Andrea Per il montaggio Assistenza Ci vediamo In un prossimo episodio Ci vediamo anche su Instagram Per tutte le novità E Ciao Ciao Air 2 Per la T-Track Fenomenale Un po' pericoloso Ho lasciato il radiocomando Senza i joystick Direttamente nello zaino E lui ha Traccato tutto Addirittura in mezzo alle piante Air 2 Tanta tanta roba Per la T-Track E il drone per gli sportivi